ciao ragazzi benvenuti e bentornati nel mio canale oggi vi voglio parlare di un utensile un cilindro particolare dove all'interno abbiamo per l'appunto una serie di punte ok è un multi multi slot per punte per smontaggio di telefoni di elettronica e di qualsiasi altro comprensivo anche per l'appunto del suo cacciavitino ne fanno due versioni dopo vi faccio vedere nel dettaglio questa è la più piccola tutto è magnetico e va per l'appunto in maniera perfetta riposto all'interno del cilindro invece dopo di che troviamo quello un attimino un po più grande che è il doppio dove abbiamo un prodotto un attimino un po più grande perché le punte sono un po più grandine e servono per fare dei lavori un po più complessi vi lascio il link di aliexpress per questi tipi di prodotti chi non conosca aliexpress e commerce più o meno come amazon cambia ben poco solo che è cinese le tempistiche possono allungarsi un attimino di più nella consegna ma di norma entro una settimana 15 giorni trovate il tutto vi allego per l'appunto anche il link referral di letyshop se non sapete cos'è letyshop vi linko direttamente sotto il tutto letyshop è un'app che permette di avere acquistando su determinati siti anche su aliexpress un cashback che può variare dal 5 5 e mezzo anche al 15 per cento e quindi potete andare direttamente ad avere qualche soldino indietro se nell'eventualità vi iscrivete avete anche un bonus di benvenuto di 5 euro ok basta che nell'arco dei 30 giorni dell'iscrizione voi fate almeno un acquisto di 30 euro e io lo uso molto spesso compro molto da aliexpress o da banggood che è un altro tipo di sito sempre cinese perché perché alle volte trovo gli stessi prodotti che vende amazon a un prezzo molto 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 più basso e sono identici certo dipende da che tipo sono tutti comunque prodotti cinesi ma comunque di una buona qualità adesso vi faccio vedere nel dettaglio i prodotti ritornando a noi questo il cilindretto compatto dietro trovate un pulsantino basta premerlo si apre tutto questa è la sua custodia per far uscire il cacciavite basta premere questa levetta qua esce direttamente il cacciavittino e qui troviamo tutta il nostro set di punte dalle torx a nell'eventuale realtà quelle che si utilizzano anche per smontare i telefoni cellulari quindi sono quelle un attimino un po più particolari denominate t con questo tipo di punta qua vediamo se la videocamera riesce a farmi un bel zoom ma non penso fino qui ok e dopo di che è tutto perennemente magnetico quindi vado a inserirlo su all'interno e il fondo del nostro cacciavite ruota e quindi quando noi andiamo ad avvitare qualsiasi vite vado a girare in questo modo è il kit veramente interessante quantità di utensili molto 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 elevata dopo vi lascio direttamente anche il link del produttore e il collegamento diretto su aliexpress questo è tutto quello che c'è praticamente all'interno troviamo veramente di tutto ed è molto utile per chi fa piccoli lavoretti di elettronica o altrimenti smonta smonta telefoni smonta schede quant'altro quindi non risulta veramente ottimale questo è il quanto non sto lì ad aprire tutte quante le punte tanto vi do il link e quindi li potete vedere qualsiasi tipo di aggancio possibile questo è un tipo di modello dopodiché la stessa ditta ne fa anche un altro quindi quando voi andate a riporre qualsiasi punta la punta qua all'interno è magnetico quindi basta agganciare lui direttamente sta attaccato senza problemi si va a reinserire il nostro cacciavitino all'interno e tutto quanto viene di nuovo richiuso nel suo cilindro e questo è il tutto quello che c'è all'interno questa è la versione più piccolina dopodiché oltre a questo tipo di prodotto qua c'è anche la versione doppia questo è un attimo un po più complesso quantità di prodotto all'interno vedete che funziona sempre allo stesso modo quindi bisogna premere come si è scritto open vado a premerlo esce da una parte il cacciavite e dall'altra tutta una serie di piccoli utensili il nostro cacciavite una volta tirato fuori ok oltre a tutti questi che voi vedete dietro lo trovate un ulteriore pulsante da premere dove abbiamo ancora dei utensili da poter sfruttare e quindi è un altro salva spazio chiamiamolo la composizione sempre semplice andiamo a inserirlo in questo modo e dopo di che andiamo a selezionare la punta a noi più consona per fare il lavoro tutto è magnetico la qualità è buona i materiali sono ottimi e devo dire che mi sono trovato molto ma molto bene non vi nego che è un prodotto cinese questo è il quanto è un video abbastanza veloce volevo solo farvi vedere questi tipi di prodotti appunto ha bisogno di un qualcosa per spostarsi senza portarsi dietro tutta una serie di cacciaviti sotto forma di valigetta quant'altro ma è qualcosa di veramente pratico e veloce dopo di che adesso vi aggiungo tutti quanti i link per quanto riguarda le t-shop aliexpress e logicamente il prodotto per andare a riporre basta rinserirlo all'interno vado a richiudere il tutto e questi qua sono i due singolo e doppio per accedere ad aliexpress basta digitare www.aliexpress.com vi compare la schermata dopodiché sotto sulla barra sopra sulla barra di ricerca potete andare direttamente a scrivere quello che vi interessa io ho scritto set di cacciaviti vedete che sono venuti fuori una set variati tipi di set quello che vi ho presentato è il cacciaviti multifunzione partiamo a 12 euro e 97 centesimi insomma il modello un attimino un po più base di shop invece l'app del cashback è questa basta scrivere www.wletyshop.com comunque vi ho lasciato tutto quanto in descrizione vedete che avete svariati tipi di negozi ce ne sono veramente una miriade poi selezioniamo il nostro aliexpress andiamo direttamente a cliccarci sopra vado dove c'è scritto vai al negozio vedete che lui mi sta indirizzando di nuovo su aliexpress ma mi dice che il cashback è attivo e io qua posso andare a riscrivere quello che voglio è una volta acquistato o per l'appunto il cashback che può essere fino a 5,5 per cento o altrimenti in determinati tipi di periodi avete anche il 15 per cento vi ricordo che vi lascio il mio codice referral così potete avere anche 5 euro di bonus per l'acquisto di quello che volete per avere però questi 5 euro di bonus dovete fare entro 30 giorni un acquisto di almeno una trentina di euro e dopo di che per appunto vi vengono accreditati ragazzi questo è tutto io ho fatto questo video breve giusto per farvi vedere che esistono della possibilità di avere un set di cacciaviti portatile e compatto e preciso tutti quelli che sono un attimino un po più smanettoni sicuramente lo troveranno interessante vi ringrazio e alla prossima ciao ciao